Ciao, oggi volevo farvi una recensione su come scaricare giochi per Nintendo DS. Allora, io adesso non ho il programma per vedere lo schermo, quindi ve lo dirò a voce. Allora, intanto andate su NDSR, sì, NDSR, andate su questo sito. Poi vedrete che c'è questa pagina e a destra c'è una barra, voi scriverete il nome del gioco che volete e allora da sotto, scorrendo giù, vedrete che usciranno giochi, non tutti ci sono, però accanto ci sono le lingue. Se trovate europeo, scegliete quello che c'è sicuramente italiano. Poi cliccate il gioco e vi si aprirà il file server. Voi andate giù e cliccate download più lento. Dovete scrivere la frase che vi uscirà. Date download più lento quando l'avete scritta. Aspettate 20 secondi, ricliccate download più lento e si scaricherà automaticamente. Ci tenevo a dirvelo, commentate i video, iscrivetevi al mio canale e direvi che cosa devo fare la recensione. Ci salutiamo qua e ci vediamo nella prossima recensione. Ciao! Tutto è d'acqua.